Mark Marquez e la Honda si separano adesso è ufficiale non è più una semplice indiscrezione è arrivato un comunicato ufficiale da parte della HRC il contratto che originariamente è stato firmato fino al 2024 finirà alla fine del 2023 quindi Mark Marquez nel 2024 guiderà una Ducati del team Gresini questo ancora non è ufficiale ma magari mentre sto registrando questo video arriva l'ufficializzazione anche di questo passaggio perché naturalmente è così del resto lo aveva anticipato Gigi Daligna domenica in diretta Sky lo aveva detto Paolo Ciabatti durante il Gran Premio dell'India c'è la trattativa con Mark Mark Marquez il team Gresini aveva detto se Mark Marquez bussa alla porta la Ducati per lui c'è quindi era chiaro che bisognava soltanto aspettare che Honda e Mark Marquez raggiungessero l'accordo io non so di che tipo comunque hanno raggiunto un accordo per rompere il contratto che ripeto era previsto fino alla fine del 2024 allora la notizia non è clamorosa perché ormai era chiaro che la strada fosse quella è clamorosa perché io per primo io per primo non mi sarei mai aspettato che Mark Marquez e la Honda rompessero il contratto allora devo dire che Honda ha fatto bene secondo me a rompere il contratto con Marquez a non fare un braccio di ferro con Mark Marquez come ho già detto in un altro video quello HRC e se io fosse HRC cosa farei ecco avevo già sottolineato come fosse assolutamente inutile tenere un pilota che non ha più voglia di correre per te ecco quindi sotto questo aspetto io credo che Honda abbia fatto molto bene adesso Mark Marquez arriva in Ducati aspettiamo di sapere quale sarà l'accordo ma presumibilmente sarà di un anno solo allora devo dire che sono tanti gli aspetti che lasciano perplessi di questo accordo perché se effettivamente sarà di un anno solo io faccio fatica a capire perché Ducati accetti di prendere Mark Marquez per un solo anno allora la domanda forse da farse è perché Gigi da linea vuole a tutti i costi Mark Marquez ha voluto a tutti i costi Mark Marquez è chiaro che quando si è presentata la possibilità la favola che il team Gresini a scegliere i piloti a quella favola lì non ha creduto nessuno è ovvio che sia così è normale che sia così quando c'è di mezzo un pilota come Mark Marquez nessun team satellite può essere indipendente quindi in questa scelta Ducati ha naturalmente dato il suo benestare in prima persona e sicuramente l'ha fatto Gigi da linea Gigi da linea ha sottolineato più volte anche nel podcast su moto.it come Mark Marquez sia un otto campione del mondo e quando un otto campione del mondo chiede la tua moto è giusto che tu gliela dia questa poi dal punto di vista dell'orgoglio personale di Gigi da linea è qualcosa di di pazzesco ed è giusto che sia così dall'altra parte lui aveva sottolineato spesso lo ha detto anche domenica ecco inserire Mark Marquez un pilota così ingombrante perché Mark Marquez è un pilota ingombrante ovviamente nel bene soprattutto nel bene ma anche nel male ecco inserire Mark Marquez in questa struttura non è così semplice ecco io credo che non da questo punto di vista non sarà facile per Ducati gestire la situazione Mark Marquez avrà una Ducati satellite avrà una Ducati una GP 23 quindi non una GP 24 e è in un team satellite è in un team satellite di altissimo livello perché il team Resini è sicuramente un team di grandissimo livello però rimane un team satellite ecco io devo dire che anche per questo motivo è secondo me inaspettato perlomeno per me era inaspettato questo passaggio ecco comunque Ducati dovrà gestire questa situazione io ho già sottolineato come il rischio di questa operazione è che comunque vada si parlerà molto di più del team Resini che del team ufficiale anche se il team ufficiale dovesse vincere tutte le domeniche contro Mark Marquez io credo che comunque Mark Marquez catalizzerà l'attenzione come peraltro è successo nelle ultime settimane negli ultimi mesi con questa telenovela che fortunatamente è finita ecco per Ducati non sarà facile è chiaro che i piloti adesso è chiaro però che dal punto di vista sportivo per noi appassionati è un qualcosa di meraviglioso perché fino adesso abbiamo sentito dire per me in maniera sbagliata come i piloti attuali della Ducati vincano soltanto perché hanno una Ducati ecco con Mark Marquez sulla stessa moto cambia tutto anche se Marquez avrà una moto satellite non ufficiale cambia tutto perché una vittoria di Bagnaia una vittoria di Martino una vittoria di Bezzecchi avrà ancora più valore rispetto a quella a quello che hanno in questa stagione ecco io credo che io credo che sia una dal punto di vista sportivo ripeto qualcosa di molto gratificante di appassionante per noi per noi che seguiamo le moto per noi che siamo appassionati delle moto vedere Mark Marquez sulla Ducati è qualcosa di sicuramente significativo per il campionato poi ci sarà da fare tutti i discorsi la Honda che fine farà eccetera eccetera ma io direi che questo è un altro discorso secondo me è da sottolineare il fatto che per noi appassionati vedere Mark Marquez sulla Ducati è qualcosa di clamoroso e sono sicuro e questo però è un aspetto forse forse meno bello che già da adesso in poi si scateneranno le previsioni farà benissimo farà malissimo prenderà paga vincerà tutti i gran premi calcaccio l'ha detto eh Marchez con la Ducati renderà il campionato noioso ecco io credo temo che questo accordo metterà un po' di onda sul finale del campionato che invece è pazzesco ed esagerato per tutti noi che seguiamo il moto mondiale e questa è una notizia in prima fila di oggi io sono lo Zan vorrei sapere la vostra opinione